Un imprenditore battipagliese e una donna sarebbero stati rapinati da extracomunitari. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che la coppia fosse nell'auto del quarantenne in località Santa Lucia, quando si sarebbero avvicinati. In piena notte, un gruppo di persone con degli oggetti volti ad offendere. Avrebbero rotto i vetri dell'auto, costringendo i due, ad uscire e consegnare i soldi. Entrambi si sono fatti medicare al Santa Maria della Speranza di Battipaglia, con prognosi per fortuna non superiori a una settimana. Sul fatto di cronaca sono in corso le indagini dei carabinieri.